Ciao, sei un autore? Hai scritto un libro e vuoi che lo conoscano quante più persone possibile? Bene, allora partecipa a Libri al Mare, nelle piazze e nelle mostre mercato più belle del Lazio. Con Libri al Mare puoi assicurarti il tuo posto nello stand di SBS Comunicazione per la presentazione o il firmacopio dei libri. Il 10 luglio saremo a Stampa Marinella, dalle 16 alle 23, per una giornata di mare, sole e luce della notte. Ripetiamo l'appuntamento anche il 13 agosto, sempre dalle 16 alle 23, in una giornata straordinaria a Marina di San Nicola, sempre lungo la costa romana. Il 30 e il 31 luglio, invece, SBS Comunicazione si sposta nella provincia di Genova. Lib, Libri in Borgo, ci offita a Lavagna, uno stand dove sarà possibile presentare, fare il firmacopio e incontrare tanti altri autori. E se ancora non ti basta, resta con noi il 28 agosto per uno degli appuntamenti più belli e importanti dell'estate. La prima edizione di Libri in Dogan si terrà infatti a Città.